Latte condensato zuccherato Nestlé presenta Anche in sogno Quello ramo del lago di Como che... Autori italiani, domani interrogazione, ma già nel sogno le domande dei professori Allora dimmi, chi è l'autore dei promessi sposi, eh? L'autore dei promessi sposi è... Lo fai o non lo fai? Su, ripeti con me, Alessandro... Alessandro... Vitelloni! Ah, si va al cinema invece di studiare, eh? Mucconi! E perché non baboni, eh? Ehi, non si! È un vero peccato, ma sia bocciato! Latte Nestlé, un condensato di energia, più sicuro e digeribile Alessandro Manzoni, 1785-1873 Nato a Milano dal nobile Pietro e Giulia Beccaria Scrisse la Delca, il 5 maggio, il conte di Carmagnola, gli ne sa Bravo il piccolo, bravo, bravissimo E che ha risposto bene, benissimo Ma del romanzo inespertissimo I veri bravi, eccoli qua Eccoli qua, eccoli qua Siete bravi, siete bravi amici miei Ma furboli, ma furboli, non direi Donna Bondi abbiamo curato che non sposi il filator E di Renzo innamorato abbiamo fatto un viaggiatore I promessi separati, uno a Monza, uno a Milan Che da loro foste burlati, vi scapparono di man Ci scapparono di man Noi rapiremo la Lucia Tradito è Renzo da una spia E Don Rodrigo nel castello La sua preda aspetterà Ma il cattivo è nominato, buono buono è diventato Non signore Sì signore Non signore Sì signore Se il padrone si è pentito, anche il bravo è rabbonito Non signore Sì signore Non signore Sì signore Di prianza ai laghi e il suolo Anche ai bravi tocco il cuore Agli sbirri, agli spagnoli Ai severi professori Proprio come in sogno Latte Nestlé Più sicuro, genuino, pratico, digeribile Latte Nestlé Un condensato di energie Anche in tubi Normale, al cioccolato, al caffè Inviate le etichette a Nestlé Milano Parteciperete al concorso Oro Oro per voi Quanto è buono Latte Nestlé Più sicuro, genuino, pratico, digeribile